Joachim Gauk ha prestato giuramento davanti al Parlamento tedesco, il Bundestag e il Bundesrat a sessione congiunta. Il neopresidente si prepara al primo viaggio in veste ufficiale, sarà in Polonia la settimana prossima. Gauk è Onossi, un tedesco dell'Est, come Angela Merkel. Guarda dunque istintivamente all'Est, ma guarda anche e soprattutto all'Europa, a cui ha dedicato parole importanti nel suo discorso di investitura. Proprio nella crisi vogliamo usare più Europa, ha detto Gauk, ricordando che se per la sua generazione l'Europa era una solida tradizione, per i giovani può rappresentare la chance di una società aperta e una meravigliosa possibilità. Quello della speranza e del coraggio è un messaggio che Gauk ha sottolineato anche in chiave tedesca, ha invitato i suoi concittadini ad avere più coraggio e fiducia in se stessi e nelle istituzioni. Parole forse credibili per i cittadini proprio perché pronunciate da uno che non è mai stato politico e alla cui leadership morale il paese si affida ora per uscire da una crisi che ha anche di identità.